Non sono nessun sistema, non è nessun sistema Caro facciamo il video e poi lo mettiamo su YouTube La squadra in trasferta La raga! La squadra in trasferta La Baranza capito? Facciamo partire il coro Il Baranzate E aria di uuuh E aria di uuuh E aria di uuuh Il Baranza in balciuuuuh Il Baranza in balciuuuuh E aria di uuuh E aria di uuuh Il Baranza in balciuuuuh Il Baranza in balciuuuuh E aria di uuuh E aria di uuuh E aria di uuuh